Ultimora che ha sconvolto tutta la comunità. Purtroppo è stato trovato misteriosamente morto sul pavimento. Dramma a Casale Sul Sile. La perdita improvvisa di un ragazzo così giovane rappresenta un dolore immenso per tutti noi. Con queste parole, il sindaco di Casale Sul Sile, in provincia di Treviso, ha espresso il dolore dell'intera comunità per la tragica morte di Filippo Simionato. Un ragazzo di soli 18 anni. Filippo è stato trovato senza vita nella sua casa dalla madre nel pomeriggio di mercoledì 12 giugno. Prima di scoprire tutti i dettagli, ti invitiamo a iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. La madre, rientrata a casa, ha scoperto il corpo del figlio riverso sul pavimento della camera da letto. Ha immediatamente chiamato i soccorsi, sperando di poter salvare Filippo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Gli operatori del 118, arrivati tempestivamente, hanno tentato di rianimarlo, ma si sono dovuti arrendere, dichiarando il decesso e lasciando la madre nello strazio. Le cause della morte improvvisa di Filippo rimangono sconosciute. Tra le prime ipotesi si considera un possibile uso non corretto di farmaci che il giovane assumeva regolarmente, ma non si esclude anche un malore improvviso. Tu cosa pensi sia successo? Le cause della morte sono da imputarsi ai farmaci che prendeva regolarmente o a qualche altra sostanza 2 o causa misteriosa. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri per svolgere gli accertamenti necessari. Prima di scoprire ulteriori dettagli scioccanti su questa vicenda, metti un bel like se il video ti sta piacendo e se vuoi sostenerci a produrre video sempre migliori. Fai una donazione con un super grazie. Utilizzeremo i proventi per creare fantastici video che ci chiederete. Il corpo del ragazzo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale Caffoncello di Treviso, dove sarà sottoposto ad autopsia ed esame tossicologico, per chiarire le cause del decesso. Ci stringiamo attorno alla famiglia del giovane, esprimendo la nostra vicinanza. L'intera comunità è sconvolta e senza parole, ha aggiunto il sindaco. L'amministrazione comunale, vicina alla famiglia, è pronta a sostenerla in questo momento difficile. Bene, per il momento è tutto, ti ringraziamo per la visione e al prossimo video da Febbre da Gossip.